Buonasera Patrizio, buonasera a tutti, mi senti mancati, bianca e nera, non ci sono vie di mezzo questa sera Un po' diabolica e un po' angeli, verrebbe da dire, sicuramente pepata la nostra Alice Proseguiamo con la presentazione del salotto 346-3294-578 che è il numero di telefono, sms e whatsapp per interagire con il nostro partere, il nostro studio Poi la lupità, la valcia e pepe trattino 6 la tv, oltre ad aspettare i vostri like, tutti i lunedì troverete su questa bella pagina le classifiche aggiornate e anche le puntate della volta scorsa Ma io voglio trovare l'alice, abbiamo sentito uno starnuto in piena diretta Quattro giorni che ho la febbre Ma stellina, ma stellina la febbre a nostra Alice Bertelli, chiamiamo un dottore, chiamiamo un dottore, un infermiere Ma no, un dottore Un dottore, un dottore con tutti i crismi, certo, meglio essere sicuri Che c'è adesso Alice? La pubblicità, tra poco Vi pizzico un po' Brusa Porto, ancora un rigore, vi do un po' di spunti per dopo le classifiche A Cervis, a Cervis, a Cervis, e la Trevigliese, puntini Sì, ricordiamo Cervis, portiere in to Ha fatto il gol a Bonazzi l'anno scorso anche È bellissimo Come vivete il derby con il redale Il dualismo, il campanilismo con il crema Parano i petoloni e ti mettono dentro Non sono buona, Patrizio No, è che Voi che la vedete, la amate e ci volete bene Quindi questi offiti che vengono da tutte le parti vuol dire che la trasmissione ha raggiunto livelli altissimi 9.30 ore 23 la sera e ore 13 il sabato le repliche Ricordate la pagina Facebook, cliccate mi piace, troverete tutte le fotografie e la nostra puntata Un bacione E prima di...